Ragazzuoli, benvenuti, eccoci, Dokkan Battle quinto anniversario col trio, me l'avete chiesto un fottio, me li ho portati, eccoli qui, ciao ragazzuoli, ciao Joseph, ciao ragazzi, ciao a tutti ragazzuoli, no ma nel mentre ragazzi, se mi vedete un pochettino sudato è perché sono rientrato da poco da Chicago, dove abbiamo fatto i campionati nazionali, anzi scusate, i campionati mondiali di Dokkan Battle, ma lo sai perché proprio a Chicago? No, vai, ah sì, ok, lascia, lascia stare, scusa ma non era l'anniversario di Pokémon Masters? Lasciamo perdere, lasciamo perdere, ragazzi, allora quinto anniversario, ricordiamolo come al solito, è inutile che ce lo ricordate nei commenti, Joseph e Tube non giocano a Dokkan, non ci sanno giocare, però a sto giro io vedo le rossi Non ti permettere, non ti devi permettere Ma Mirko è il campione mondiale, ma Porco, non ho parto, eh Ragazzi, siamo qua per farci due risate, nulla di più E qui ti sbagli un'altra volta, e qui ti sbagli nuovamente Allora, c'ho a schermo, ragazzi, vedo tutto, c'ho la mia schermata e vedo anche le loro Aspetta, prima di cominciare, pollicione all'insù e mi raccomando, nel titolo trovate il nickname mio e di Joseph in blu, cliccate sul canale e andatevi ad iscrivere Perché se non lo dico io, Gianfranco fa tre minuti di niente, parla di tutto e di niente Bravo Mirko, portati sul banner di Vegito perché pulleremo tutti lì Cambio di punti, Featured valgono un punto LR, che non sia Vegito, valgono tre punti, Vegito cinque punti Sto facendo un favorone, ragazzi, credetemi per fare quest'altro giro perché veramente non dovrei Ragazzi, detto questo, direi di partire Andiamo a turni, parte, vai, vuole partire Giuseppe, parti Giuseppe, vai 3-2 fa 1, summon Vedo che subito si è lanciato E poi io posso vedere, posso vedere anche la schermata di Giuseppe Sì, piccolo Gohan, è già banner per Giuseppe Ma come, Gianfranco? Fermi, 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 vediamo Perché ce la fanno qui, che lui? Ma che sta succedendo, Gianfranco? 50% LR, Giuseppe Gianfranco, subito, ma non è possibile, scusami Ho capito, ma stanno regalando cose? No, vabbè, sono subito tre punti Ma la fanno c***o Gado, 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 Giuseppe Ok, aspetta, però quanti punti sono questi? Sono tre punti per Giuseppe, attenzione Eh, allora, Mirko, che farei per noi? Perché io mi trovo Vegito, la prima summon E tutto magnotaral Ragazzi, per favore, non lo trovate perché veramente, guardate, mi piange il cuore Allora, l'importante è non trovare Gohan Ragazzi, se mi vedete guardare a sinistra è perché sto guardando la schermata di Giuseppe Che la sta condividendo Ma allora, io se che faccio, ma non ve la faccio proprio più vedere sta schermata Così non mi mandate le secce, come si può dire Ma no, ti stiamo mandando Oh, no, vabbè No, basta Gohan Due LR in una summon, bra Ma sono un dragone Ma è forte Gohan? Sì, per favore, però io non lo voglio trovare più Per favore, no, no, Gohan Ma lo Giuseppe ha fatto una multi, molto bella Ma è quanto sto? Che sessi punti Già mi immagino, posso dire una cosa, già mi immagino nei commenti Eh, ha trovato lui che non ci gioca, mannaggia la miseria, tutti arrabbiati Vabbè, fino a quando ne hai trovato Vegget, Giuseppe? Eh, dammi tempo a te Guarda Fra, ora ti faccio vedere come si trova Veggito, LR Dovete fare questo movimento, ragazzi Prendete le vostre mani Mettetele così Un'altra così e poi Magno Tutaral, Giuseppe E vai A me Magno Tutaral L'importante è che non me lo trovate in faccia perché Guarda qua, guarda qua, guarda Guarda qua, guarda, guarda Ci arrabbiamo Ma noi, 50 personaggi Ma ti posso dire una cosa, ti posso dire una cosa Ma io a quanto sto, Gianframo? Stai a sei punti Boom Ah, bello, sento pure quello di Mirko Sento pure l'Higigato Joshua Quattà di Mirko Sì, sì, l'Higigato Joshua Quattà Anche perché quello è importante Eccolo Uh, attenzione Aia, it's over Frieza Ok, eh no, fin quando è solo uno però Ho sentito PG Banner? Sto sentendo PG Banner? Eh No, non è PG Banner Per il momento non è PG Banner Chi te l'ha detto? Chi te l'ha detto? Ma come ti permetti? Mo te lo trovo io Mo te lo trovo io, Veggito Sta a guardare Il master di Doc Guarda, guarda Di ritorno da Chicago Giuseppe, per favore Togliti dalla schermata Che non sei un bel vedere lì Ma non ti permettere Io volevo vedere a Gianfra Cioè, volevo vedere a Mirko Che mo trova il nulla Mirko, meno male che non l'hai visto Si è messo un attimo lui lì a schermo No, si era messo lui a schermo? Peccato per i ragazzi che lo vedranno praticamente Allora, posso dire una cosa, Gianfra Ah, ma quindi mi vedranno loro Oh È ovvio Ma no Ma do cazzo sta No, te vedranno nel senso la webcam Guarda ragazzi, sono dentro di Joseph Guarda qua Gianfra, ma lo fai zittire da quello che sta dicendo? Ecco Joseph Anche cui è Joseph Identico Va bene Stai solo rosicando Perché già sto a sei punti Oh, ho sentito PG banner? No Assolutamente no Che PG banner? Ma quando vai? Non è banner? Passiamo avanti Passiamo avanti È tube a zero È tube a zero Ragazzi vado io Io so che non vedete la mia schermata Ma tanto manco ci capireste niente A livello di animazione Ma come ti permette? Ma come si permette? Ma come ti? Ma vai a quel Basta Allora, registrata solo sto video Cioè, ma tu stai con noi o contro di noi Scusi, ma non capisco Aspettate una Fatemi senti Buono Buono 18 in animazione Terzo livello Niente God Cioè, mamma mia Proprio eclamor Vabbè, Gianfra Anzi, non ho Gianfra Gianfra che ci serve Per arrivare a dieci minuti Sezzer Gianfra Barlot Mamma mia Ma che è stata Mamma mia Ma io non me lo dovevo fare Ti posso dire una cosa? No L'uomo più fortunato al mondo Anche su Dokkan Lo sto a fare per voi Credetemi Giuseppe, ma non è che tu sei L'uomo più fortunato del mondo Perché Ma è finita La mia andata No Gianfra devi tagliare questa cosa Se no Se qualcuno me lo scrive nei commenti Mi ingrippo malamente Devi zittirlo Devi zittirlo Quando dice questa cosa Vabbè È andata malissimo la mia Vai Giuseppe Ricomincia tu Giambra vado io E mo vi faccio vedere un attimino Che cos'è la fortuna Va Facci vedere Giuseppe Facci vedere va E vediamo un attimo Eh va bo Stavo scherzando Oh Sì Ok 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 Giuseppe Giù è un altro personaggio Relays Siamo a tappare su 멤� Hanno Va beh Anche se C'è Giuseppe Già che sta Se sti sei punti E Solo landed André Però già sta sei Bra ma che bu Guardi Giuseppe Anche se non rosico Perché fin quando escono I Koan Non rosico Gianfra Forى fino alla fine del video C'è tempo Stai tranquillo Non preoccuparti C'è tutto Il tempo Vai Anche se c'è Giuseppe Già che sta su sti 6 punti Ahia solo su per sé André Però già sta a 6 Anche se non rosico Perché fin quando escono i Gohan Non rosico Gianfra fino alla fine del video c'è tempo Stai tranquillo Non preoccuparti C'è tutto il tempo Vai muovete Non ti preoccupare Io una cosa vorrei capire di questo gioco Blazi tu che magari ci giochi Tutte queste SR che si trovano Nelle summon sono solo per effetto Riempitivo cioè per dirti Ti do un po' di merda Oppure ci sono delle SR utili No no alcune servono Servono magari a far salire Il super attacco di SSR Scusa ma Strizzamasu Non stavano nel banner Giuseppe pensa a giocare Che hai fatto una multide cacca Gianfra mica può andare sempre bene Una volta va bene Ma la fortuna sta sempre con me Ragazzi Qualcuno ha detto PG Banner Scusate Gianfra potresti dire la parola PG Banner PG Banner PG Banner PG Banner Vegito LR PG Banner Vegito LR Ho sentito E' quello che avrai Ma fa sta figuracce Oh Attenzione Attenzione Ho sentito PG Banner Oh E Mirko c'ha almeno C'ha almeno un punto C'ha almeno un punto Dalla sua Sì vabbè che fai Te lo prendi Su me sei in tre Eh ma maria Ma che schifo Si spacca lo schermo Che schifo Che schifo Che schifo Mamma mia Mamma mia E ha fatti sto punticino E poi Sei proprio indecente Eccolo PG Banner No 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 Qualcuno ha detto PG Banner Questo è un PG Banner Sicuramente Vai PG Banner Vieni in tre punti Ma che Ma che Passa avanti Ragazzi Per voi che state seguendo Eccolo qua No Ecco Ma no Qualcuno Mi sembra giusto Che chi non trova Qualcuno ha detto LR Banner Gianfra Qualcuno ha detto Tre punti per Mirko Giuseppe Lo senti che ti sto Solleticando Il buchettino del culetto No Non dire volgarità Sto arrivando Giuseppe Sto arrivando E lo sai che ti dico 6-3-0 Perché ti sto veggito No Non ti arriva il veggito Però non esce 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 Non ti uscirà No no Non ti esce Eccolo qua Ma quando vai Ah non è Eccolo qua Ma quando va Non è E allora Eccolo qua Mi fa morire PG-Banner Bel Tapio Tapio Bel stuveggito Ma è PG-Banner Non è PG-Banner 3 ragazzi 6-3 E sono l'unico Che realmente Gioca a questo gioco E finora Non ha trovato un cazzo Vai Vado Vado Gianfra Se vuoi ti torni a account Mamma mia Su Mamma mia Santissimo Benedetta Fatemi senti Oh Varità Almeno varità Dai Ah Trovità Meno male Meno male Ci proviamo a sperare Ma mi esce qualche altro full ability Che già ho Ottimo Allora Almeno un punticino Ma non che mi interessa Ai fini del gioco E noi che ne sappiamo Gianfra se è vero o no È vero Sì sì è vero Fida Ti è vero Mi sono portato un punto Scusa Se mi volevo gabbare Mi portavo a casa Gianfra Ma lui di legito L'ha usato delle summon Ma questa era proprio una sgommata Non era Non era proprio una sgommata Vai Allora Vado ragazzi Vai Allora 3 Meno 2 fa 1 Vai Eh 3 Maronna mi Come sarebbe bello Vedere che ti compare un messaggio Scritto Account deleted Mamma mia Godo Che merda Due personaggi di merda Aspetta Mirko Aspetta C'è un'altra volta la fusione C'è un'altra volta la fusione Aspetta Ah Mirko Il tarallone è bello friabile No aspetta Non è detto che sia LR Giuseppe non è detto No va a morire Non si sa mai Questa esistenza Non si sa mai Va a morire Comunque Giuseppe sta ovviamente Sempre avanti Come al solito Sì vabbè ragazzi Ma Giuseppe perché Bigotta sta davanti Siamo noi che stiamo dietro Che stiamo meglio No Eccolo Quello è vero PG Banner PG Banner ovviamente No Eccolo No Eccolo Freezer Eccolo 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 C'è carina Io darei mezzo punto Per la simpatia e la bellezza Lo stavo per dir Io gli darei un punto Ci sta Ci sta Vai Mirko Gran sozzona Gran sozzona 3-2 fa uno via Guarda Ho sedito Oh raga ho sentito Mi rompete regà E' Vigito E mo mi dai il punto E' Banner 4 punti Si è banner Un punto Come un punto Sempre sotto stai però Ma come un punto Mi hai detto 4 punti vale Ma non è questo Ma si che è questo Ma non me lo volete Solo perché se ne stronzi Non piangere Che poi questo qui Mirko Se ti ricordi Lo trovasti nel tuo account Nel tuo primo account Di Dokkan Quello che ho già Cancellato Eh però Se te lo sei scordato Già Vabbè Mamma mia Memoria di un pesciolino rosso Dai Vai vai Avanza 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 Eccolo Ma non credo Comunque c'era C'era PG Banner dentro Nonostante le animazioni Orribili Eh si ma comunque Trunks io l'ho visto Eccola qui PG Banner per Mirko Ancora una volta Ma veramente Ma che dici Ma guarda Ma allora sei stronzo Vai vado io Ma che mi ci fai Crede Vado Vado io con questa vuota Vai Tutti stai a trovare Io ho l'impressione Ho l'impressione che Gianfranco ti stia prendendo in giro Io ho l'impressione Ma scusa una cosa Gianfranco Tu tutte le schermate Le metti a schermo Oddio Sì 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 E vai Sì Allora ragazzi Fermi Fermi Chi si muove Quando voi due vedrete questo video Quando voi due vedrete questo video Direte Blanzi ma che cazzo Ti stai urlando Che praticamente Non ti è uscito Vegito Non è uscito nulla Ragazzi In animazione Quando escono i due Zeno Vuol dire Che all'interno di questa multi Voi Dovete aspettarvi lui Vegito Sì Me lo merito Me lo merito Ma me lo merito Me lo meritavo Dopo quel portello successo in live Si è Vegito 5 punti A me va bene così Ho capito che te lo merito Ci mancherebbe Fratelli Hai dato più soldi Tu a sto gioco Che lo sostieni tu No Ho capito Però Gianfranco c'è ha vinto ed era così contento Oh ma che stai a fare Chi è che parte là Chi è che è partito È partito È partito Non ancora Mirko Non ho ancora finito la multi Fermate Non l'ho ancora finita No era gratuita Per quello Fanno finire un attimo sta multi Era gratuita Mi piaceva Vegitone Vegitone mio Doveva andare Che è partito Mirko Guarda che è fondito Vai Mirko Vai fatela Vai 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 Fatti tu sta cosa Sta cacatello Ho sentito Kamehame Ha detto A Si Mirko Mi è mica può dire Polpette Non vuol dire Ne trovate niente Vegitone Allora intanto comunque Nonostante il Vegito Giosef comunque sta vincendo Assolutamente ma C'erano dubbi Vediamo Mirko Ah bello questo Questo è davvero Eccolo Eccolo Banner Eccolo Vegitone Banner Vai Sei punti Sei punti Non vale niente Mirko Non vale niente Mirko chiude a 4 Mirko Che ciavica È perso È perso Mirko Hai capito Vai Joseph Tocca a te Chiudi tu l'ultima Vado io Un attimo Guarda Mirko Guarda Mirko No 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 Non lo pensare Guarda Mirko Guarda Mirko Ma non lo pensare Giambra stupendì Fammi vedere Joseph Dai che ce la stiamo giocando io e lui Giambra mo ti caccio fuori questo Vegito preparati Guarda Mirko Vai Mirko comunque scialla ti tanto spendi Ma si ma le sto spendendo appunto perché non me ne fotto proprio Non si dice Vai vediamo Ho trovato il banner qui Oh hai trovato Vegito, non ti aggiungo i punti Perché ormai la sfida per te è finita Ma quale Vegito ha trovato Continua vediamo che trovi Quale Vegito ha trovato lui Scusami No ha trovato l'altro il fisico Ha trovato il fisico Eccola Guarda che così solo con Goku prima ci ho trovato Vegito Ah ma non è che quando è solo Goku Poi si fonde e fa le magie Ma se ti deve essere sincero Ho trovato qua una chiavica Però ho vinto io comunque e sono contento così No non hai vinto niente perché io ho ancora l'ultima multi la free Vado La faccio tanto Vero vero Eh si c'ho la free Potrei ribaltare la situazione No solo con Yamcha non ribaltiamo proprio nulla Sono stupo di pullare in queste situazioni in cui non capisco una serie E non si di Sto andando ragazzi sto andando sto facendo l'ultima Ok break the screen Uno Ok Niente speranze Eh si vabbè magari come pure un altro Vedi Minchia magari Eh vabbè si Magari Giambra hai avuto quello che volevi Ma basta però eh E' super Mamma mia Si ragazzi mi va pure di perdere contro Joseph Basta che il PG l'ho trovato E pensare che non lo volevi nemmeno fare Ok Non lo voleva fare sto video Ragazzi E quindi E quindi E quindi adesso mi dici grazie E dici a tutti quanti Grazie Che è merito mio se hai messo il token play Perché non lo volevi mettere Ed è vero Ed è vero Ed è vero Ragazzi Detto questo Anche quest'anno Vi abbiamo regalato Secondo me Un po' di divertimento Anche se i due ragazzoni non giocano Mi raccomando però nei commenti Ricordatelo sempre No Ma no Vabbè Anche perché vi banniamo No perché banniamo E' palese che io in realtà gioco Scherziamo ragazzi Ci riferiamo solo a quelli lì Che vengono sempre comunque A dare contro Semplicemente Tutti gli altri Veramente Tempo da perdere Non ne abbiamo ragazzi Noi lavoriamo E facciamo altre cose più importanti Un piacere Ciao 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 Ragazzi Detto questo Detto questo Noi Io Astenzione Col trio Forse Se lasciate tanti like Io col trio Magari Ci vediamo Di nuovo Ai KK Ragazzi State tranquilli Voi non state a capire niente Giosef e Tube Tranquilli Stanno a capire loro Ragazzi Niente Grazie ancora Mi raccomando Link dei canali Dei ragazzuoli Tutti in blu Basta Pure le outro di 3 minuti Maron e Gianfra Ciao a tutti Su Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao Ciao a tutti